Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 27 maggio. Ieri abbiamo fatto un po' tardino con Matrix, tanti di voi ci hanno ascoltato e ci hanno visto per addirittura 4-5 ore quant'è durata quella diretta, siamo un po' distrutti, insomma tutti quanti noi della redazione questa sera non dimenticate che ci sarà Quarta Repubblica in cui ci saranno tanti altri elementi da verificare non tanto sulla vittoria di ieri che è evidente, clamorosa e lineare, cioè quella di Matteo Salvini ma invece il punto fondamentale sarà capire intanto gli eletti e non è male sempre fare il discorso sugli eletti e poi andare a vedere quello che succede in Piemonte e in tanti altri comuni in cui si è votato in Piemonte in particolare perché quella è la zona in cui si dovrà capire, secondo le prime prevedizioni avrebbe vinto il centro-destra, si deve capire una parte importante delle infrastrutture di questo paese cioè la TAV che se dovesse vincere il centro-destra mi sembra del tutto chiaro che si farà quindi insomma dati questa sera con ospiti anche per Quarta Repubblica allora vediamo come hanno reagito i giornali ovviamente il primo giornale che oggi occorre leggere per capire la reazione è il quotidiano del Movimento 5 Stelle cioè il fatto quotidiano perché bisogna leggere il quotidiano dei 5 Stelle? perché proprio la settimana scorsa come ha riportato in maniera molto chiara il foglio c'è stata una lita all'interno della redazione da parte dei redattori del Movimento 5 Stelle dei redattori del fatto quotidiano che se la sono presa con Marco Travaglio lo strillone di Di Maio, non di tutto il Movimento 5 Stelle ma di Di Maio se la sono presa con Travaglio perché dicono beh insomma stai diventando troppo di partito e non critichi mai il Movimento 5 Stelle e allora oggi chissà che cosa succederà all'interno della redazione di quel giornale diciamo fiancheggiatore del Movimento 5 Stelle intanto vi leggo alcune considerazioni assurde che fa stamattina Travaglio sulla vittoria ma intanto non si può negare che abbia vinto il Movimento di Salvini da lui tanto odiato ma i suoi errori hanno portato voti alla Meloni e al Cavaliere e per fortuna che ha fatto questi errori dico io a Travaglio se no cosa deve prendere? io vi segnalo che la Lega nei dati ufficiali ha preso 9 milioni di voti pari al 34% il che è un dato straordinario come lo era Renzi obiettivamente le ultime europee ma l'idea che oggi uno commentando il voto dica che gli errori di Salvini hanno portato voti a Meloni e a Berlusconi vuol dire che non c'è due prosciutti sulle orecchie ma due codici di procedura perare onestà, onestà, onestà non basta l'altra cosa straordinaria è che la campagna elettorale di Di Maio è stata fatta talmente bene perché se non avesse attaccato la Lega beh, insomma sarebbe andato ancora peggio il Movimento 5 Stelle che vi segnalo ha preso il 17% con 6,5 milioni di voti cioè ne ha persi mi sembra 3 in giro in questo periodo e dall'europei nel giro di un anno beh, insomma se questa è l'analisi lucida del più importante supporto del Movimento 5 Stelle cioè Travaglio continuate così perché se continuano così scompaiono nonché la risposta di Di Maio oggi intervistato dal Corriere della Sera sia più lucida ieri abbiamo cercato tutti quanti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in televisione ma nessuno di loro si è fatto sentire né vedere beh, insomma cosa dice oggi Di Maio al Corriere della Sera? perché avrebbe perso il Movimento 5 Stelle? beh, insomma non è l'unico a perdere forse Italia è certamente ai minimi termini così come il partito della Bonino ogni volta tutti votano sto partito della Bonino poi lo votiamo, diciamo, nei quartieri bene di Roma e di Milano perché ha preso 800 mila voti e so, Di Maio che cosa dice? intervistato dal Corriere della Sera i nostri voti non ci sono stati perché si sono astenuti molto più interessante l'analisi anche se a caldo di Sud Cattaneo e ve la devo dire perché godo come un riccio il Sud che non è fatto da Trinariciuti il Sud che non è fatto da Cazzoni il Sud se ne sbatte di questo reddito di cittadinanza ed è stato totalmente indifferente a questa mancetta che il Sud non ha interpretato come corsa le urne come qualcuno si attendeva questo leggo sulle prime valutazioni dell'istituto Cattaneo cioè il Sud ha tradito il Movimento 5 Stelle poi dobbiamo anche dire una parola su questo Conte cioè il candidato e premier, attuale premier in quota Movimento 5 Stelle che ha sempre questa aria siccome parla poco sai come quegli zii che parlano poco e pensi soltanto per questo fatto che sia un fenomeno no, qualche volta parlano poco perché hanno poco da dire e quel poco che hanno a dire lo dicono anche in maniera confusa possiamo anche dirlo questo? sì, diciamolo proprio chiaramente Conte dice non mi faccio massacrare svoltiamo o continuare è inutile questa indiscrizione c'è oggi sul Presidente del Consiglio mi sembra su Repubblica è andata invece per il giornale di Sallusti che in un pezzo dice ragazzi qua è finita il governo addio il titolo del giornale di Berlusconi e di Sallusti e anche mio fino a prova contraria che dice che il contratto di governo è diventato ormai carta straccia e che dunque cosa succederà da oggi in poi? che si andrà a elezioni che è il passo dopo di cui discuteremo questa sera a Quarta Repubblica e nelle prossime settimane il 27 cambia tutto perché se uno passa al 34 e l'altro va al 17 ma come? ma chi può pensare che le cose rimangano tutte uguali? ombre nere! insomma Repubblica fa il suo mestiere cioè quello di mettere paura tra l'altro i dati di Casa Pound cioè l'unico partito candidato che uno potrebbe immaginare vicino all'estremismo di destra fascista ha preso lo 0,3% mi sembra meno dei comunisti che sono per quanto mi riguarda altrettanto orribilmente pericolosi insomma se oggi c'è un pericolo non è quello di Casa Pound semmai quello doppio del comunismo imperante l'altra vicenda che bisogna discutere è cosa succede in Europa beh lì ve la dico semplice cioè non è che ci vuole molto mentre in Italia hanno vinto chiaramente Salvini e tutto il resto ha perso compreso il PD che si lecca le farite con il suo 22% ma è esattamente quanto fece le politiche sommando l'EU e tutti i partitini minori della sinistra non è che c'è molto da dire il PD ha perso voti rispetto non solo alle europee dell'anno scorso ma neanche con questo grande vantaggio perché ha portato a casa 6 milioni di voti pari al 22% insomma non stiamo parlando di una vittoria di una tenuta certamente tene molto meglio il PD di quanto tenga forse Italia obiettivamente molto bene la Meloni invece che con il suo 6,5% e 1 milione e 700 mila voti e soltanto 500 mila voti da Berlusconi che ha una tradizione e una forza di partito immensamente più alta in Europa cosa succede? tutti a godere che non vincono i sovranisti però insomma sono un po' questi analisi sui sovranisti che non vincono è un'analisi che lascia un po' come si dice un tempo si diceva il tempo che trova allora Gran Bretagna che non è l'ultimo dei paesi europei ma è una delle economie più importanti europee chi vince come dice il Daily Mail Farage che hammer dà una botta in testa una capocciata dà una martellata al partito conservatore che scompare certo delle pippe come quelli della May e compagnia cantante c'era da attenderselo ma il primo partito in Gran Bretagna è Farage poi dite in Gran Bretagna è un caso per la Brexit primo partito in Francia si chiama Le Pen che supera quel fenomeno di Macron e anche lì insomma ragazzi non è che stiamo parlando di un piccolo paese stiamo parlando di un paese importante nella dimensione europea cosa fanno socialisti e popolari i grandi partiti della tradizione europea in Germania si beccano una botta in testa che è la metà basta in Austria vincono i popolari sì ma sono i popolari che erano nel latico strache cioè l'estremista di destra così descritto dai giornali in Spagna non c'è dubbio Sanchez il socialista va bene così forse anche in Olanda nei giorni scorsi già i giornali godevano con gli exit poll della vittoria dei socialisti in Olanda la sostanza è che in questa Europa socialisti e popolari rispetto a quanto è sempre avvenuto non hanno più la maggioranza chiaro non che non hanno vinto i sovranisti i socialisti non ce la potevano fare a vincere è evidente questo perché esistono tradizioni e famiglie politiche importanti in questi 28 paesi ma obiettivamente socialisti insieme a popolari che a casa mia che sono un uomo non di sinistra l'idea che socialisti e popolari stiano insieme mi fa orrore è una cosa orrenda perché che cosa c'ha che spartire la politica chinesiana dei socialisti con una politica liberista che dovrebbero avere i popolari zero e si fanno quelle politiche autocratiche e della conservazione delle burocazie europee che abbiamo assistito fino ad oggi se c'è una cosa che fa schifo in Europa è l'alleanza tra popolari e socialisti perché nessuno è responsabile cosa succede in questa alleanza? morta! tutti i giornali italiani su che cosa citano? sulla non vittoria dei sovranisti sarà se così sono contenti vanno bene bene liberali in Europa lo scrive Gervasoni oggi sul messaggero perché hanno una quota importantissima del Parlamento europeo più superiore ai 100 seggi ma sono liberali che hanno visioni molto diverse da Macron francese ai liberali inglesi voglio vedere come si compatteranno l'ultima cosa che sulle europee direi più o meno ci sono questi dati l'ultima cosa che vi voglio veramente assolutamente dire è che nel momento in cui tutta l'Europa tutta l'Europa era distratta dalle elezioni ognuno in modo infelice se volete a modo suo ognuno con i suoi problemini ognuno con i suoi sovranisti o i suoi socialisti che perdevano è avvenuto un incontro tra Elkan azionista al 30% della Fiat e il signor Macron perché si incontrano il capo del governo francese sconfitto e il capo della Fiat si incontrano perché probabilmente nelle prossime ore verrà annunciata una fusione tra Renault e Fiat che è la fusione che tutti davano per non fattibile che si farà e questa fusione comporterà la nascita di un colosso automobilistico di 15,5 milioni di auto io non voglio ancora dare giudizi i titoli in borsa stanno salendo Exor al 30% di una cosa più grossa cioè la Fiat è più grossa della Renault come capitalizzazione di borsa quindi vedremo chi comanderà ma io vi chiedo e mi chiedo tra il governo francese primo azionista di Renault e la famiglia Agnelli Exor che ha tra l'altro sedi in Olanda sedi fiscali a Londra insomma secondo voi il manico politico ed economico di questa nuova aggregazione nell'industria dell'automotive che è ancora l'industria più importante del mondo come occupati come ricerca e come margini secondo voi il manico ce l'avrà questa famiglia liquida italiana o ce l'avrà il governo francese e vi do un piccolo segnale Renault ha anche una partecipazione nella Nissan e Nissan non ha toccato palla nonostante avesse il 15% della Renault zitti tra l'altro nelle loro azioni il Renault erano azioni senza diritto di voto e per di più vi dirò di più hanno dovuto arrestare il capo della Renault questo Ghost in Giappone perché faceva i cazzi suoi e spendeva come gli pareva ma la cosa straordinaria nella fusione Renault e Fiat che verrà annunciata tra poco è che la gallina dalle uova d'oro per Renault è la Nissan cioè il mercato giapponese e la gallina dalle uova d'oro per la Fiat è la Jeep che sta in America queste sono le due galline dalle uova d'oro contano qualcosa azionariamente? niente quello che vedremo è spero e mi auguro un gigante che secondo i giornali e i primi annunci figuratevi un po' voi non c'è ancora l'amministratore già dicono che non chiuderanno gli stabilimenti come faranno mai a chiuderli questi stabilimenti il giorno prima o il giorno dopo lo sapremo soltanto vivendo ma la cosa straordinaria è che comanderà in questo nuovo gruppo c'è da mettere le mani sul fuoco il governo francese chiunque lo guidi e mentre noi stavamo a fare le pippe le elezioni le non elezioni Macron eccetera Macron ex banchiere d'affari per Rothschild e uomo forte della finanza francese che oggi guida il paese porta a casa l'accordo più importante nel settore automobilistico degli ultimi decenni fusione tra Fiat e Renault se questo vi piace piacerebbe anche a noi e vedremo il mercato che cosa ne parla questa cosa del capo della Renault poco segnalato direi che tanti di voi ci hanno ascoltato fino ad ora su questa zuppa mattutina vi segnalo che sul sito nicolaporro.it da questa mattina c'è uno speciale elezioni europee quindi troverete i commenti di Gervasoni di Capezzone di Antonio Martino di Sallusti di Desiderio di Gnocchi e questa zuppa che tra un po' finisce là tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni lo trovate sul sito nicolaporro.it in attesa di questa sera dove ci vediamo alle 9.30 sul Rete 4 per Quarta Repubblica con chi ha vinto chi ha perso chi ha preso voti e soprattutto se il Piemonte è finito alla destra o alla al PD un abbraccio a Francoise che vedo Damiano e tanti altri che si sono collegati in questo momento con Facebook e Instagram ciao ciao